Quest'anno il Festival di Danza Abruzzo on Stage 2015 toccherà la cittadina di Roseto degli Abruzzi. Sì, per la prima volta si svolge proprio qui nella nostra città, un grande motivo d'orgoglio, dove verranno veramente dei graditi ospiti di fama internazionale, tra cui Joshua Pelazzi e Michelle Assaf, veramente degli insegnanti di comprovato valore, conosciutissimi anche in America e qui in Italia, perché sono stati ospiti di numerose trasmissioni. Poi come ballerino, ospite d'eccezione, abbiamo Amilcar González, che anche esso si è veramente esibito, tutt'ora oramai penso il panorama italiano e internazionale in numerose trasmissioni e lui l'ospite d'eccezione, veramente la punta di diamante di questa giornata che si svolgerà sul lungomare di Roseto in Piazza Pollo, quindi il mio appello è che veramente accorrete numerosissime che ci sarà uno spettacolo di danza e non solo di una caratura particolare a cui non siamo molto abituati.